Sì, non essere prato di questa cosa che io... Ma io devo fare... Eh ma tutti sono abituati a non fare così... A chiudere... A chiudere bichini... A chiudere... A chiudere... A chiudere... Quattro... Ah... Poi... Ok... Ancora... Vai prima... Prima... Quattro... 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 Qui... Quattro... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.